Ciao a tutti, bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Questa sera andiamo a continuare per Marvel Champions l'analisi delle carte Aspetto e lo facciamo andando ad analizzare quella che fu la prima box in assoluto, la prima espansione in campagna in assoluto, l'ascesa di Teschio Rosso. L'ascesa di Teschio Rosso, oltre ad aver dentro cinque scenari, tra cui appunto quello finale Teschio Rosso, portò nel gioco due nuovi eroi, che furono Okai, Clint Barton e Spider-Woman Jessica Drew e ovviamente delle nuove carte Aspetto che contribuirono a costruire il mazzo pre-con, diciamo il mazzo pre-costruito dei due eroi e che ovviamente si aggiungono al pool delle carte a disposizione. Io vi ricordo, se vi piace il canale, iscrivetevi, ma soprattutto venite a visitare il server Discord di Dovera Gondor, sul quale appunto ci sono in ballo tantissime attività anche per una fiorente community Marvel Champions che sta crescendo tanto in queste settimane e in questi mesi. Ma, bando alle ciance, cominciamo un po' a vedere. Allora, quali aspetti e quali carte andiamo un po' a coprire? Il nostro amico Occhio di Falco arriva nella sua build leadership, quindi nella sua build autorità, con carte azzurre e nuovi alleati, mentre invece Jessica Drew, che ha un deck building un po' particolare, arriva nella sua versione, diciamo, rosso-gialla, quindi con parte di carte rosse e parte di carte gialla, perché Jessica Drew ha un deck building un po' particolare. Quindi, cominciamo subito dalle carte che entrarono nel pack Occhio di Falco e non possiamo che iniziare da Okai, Kate Bishop. Ora, qui si innesca tutto quel tema, quel discorso fatto su posso giocare un alleato che ha lo stesso nome, però se il nome sotto è diverso. Allora, in sostanza, quello che voi non potete mai avere sul tavolo sono carte che hanno lo stesso nome e un sottotitolo diverso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete sul campo Okai, Kate Bishop e Okai, Clint Barton, potete farlo, perché effettivamente, in questo caso addirittura, non abbiamo neanche il Clint Barton qui, quindi possiamo considerare che il sottotitolo di questo Okai, Clint Barton, sia diverso, evidentemente, da questo Okai, Kate Bishop. Questo, diciamo, se all'inizio del gioco è un punto di attenzione, ma fino a un certo punto, poi lo diventerà anche successivamente e maggiormente, anche perché poi ci saranno i guardiani che avranno il nome dell'alter ego uguale al nome dell'eroe, altre carte che avranno delle, diciamo, sottotitoli diversi, penso a What Tiger e così via. Quindi, insomma, teniamo presente questo aspetto del, d'ora in poi, quando giocheremo un personaggio unico, sarebbe da bisogna, non sarebbe, ma dobbiamo sempre controllare qual è il sottotitolo, per essere sicuri che non ci siano personaggi unici con lo stesso nome in gioco. Diciamo che nel caso di Kate Bishop e Clint Barton, vabbè, è anche evidente la loro differenza. Detto questo, entriamo ad analizzare Okai, Kate Bishop, che è un alleato dal costo 2, uno di intervento, due di attacco, un danno conseguente su ogni statistica, Avenger, costo 2, azione, esaurisci quest'alleato e scarto una carta dalla tua mano, fai x danni a un nemico, dove x è il numero di printed resource on that card, quindi di risorse stampate su quella carta. Allora, Okai è un classico alleato che in realtà non si sbaglia quasi mai a mettere dentro, perché? Perché guardando le sue statistiche noi abbiamo un costo 2 per un 2 di attacco e una parata, quindi siamo assolutamente in linea con quello che ci aspettiamo da un alleato all'interno del leadership che può entrare, fare due danni e prendersi l'attacco del villain. Il rapporto costo-beneficio è molto buono, perché effettivamente costo 2, 2 attacco e una parata è qualcosa che perlomeno all'uscita, diciamo, dell'ascesa di Tesco Rosso e fino all'ascesa di Tesco Rosso aveva il suo valore importante e notevole. Con l'avanzare del gioco ovviamente ha, diciamo, queste caratteristiche sono diventate abbastanza staple, cioè quelle di poter avere un alleato che fa 2 alla Maria Hill, intendiamoci, che costa 2 a 2 su una statistica e può prendere un attacco e che ha un'abilità. Quindi, come dire, al momento dell'uscita Kate Bishop secondo me era un must have, man mano si è un po' anacquata, se vogliamo, in tante altre scelte, ma rimane comunque una carta che a mio avviso è solida, solida perché non solo voi potete anche non usarla per bloccare, e quindi di conseguenza pagare 2 per avere un attacco 4, che non è malvagio in realtà come rapporto statistiche, ma nella sua semplicità di attaccare 2 e parare fa il suo. Ha inoltre un'abilità che, come dire, non è un'abilità malvagia, non è un'abilità per la quale mi straccierei le vesti, però generalmente ha il grosso vantaggio di, come dire, avete una carta in più che non vi serve quel turno? Beh, allora anziché attaccare a 2 con Hokai, potete tapparla, scartare quella carta che ragionevolmente avrà un valore, avrà una risorsa e farà un danno senza prendervi il danno conseguente, quindi questo è il grosso aiuto. Avete una build con Captain Marvel o Hulk che hanno le risorse che danno 3? Beh, allora comincia a diventare interessante che un alleato che tappate senza danni conseguenti e che sfruttate una carta risorsa da 3 vi faccia 3 danni. Ora, se avete una carta risorsa da 3 è normalmente raro che la usiate sprecandola, se vogliamo, per fare 3 danni, però possono esserci quei turni dove effettivamente ve la ritrovate in mano, non sapete cosa fare, oppure avete bisogno di fare un push a un minion, piuttosto che far mandare il criminale alla fase successiva e così via, e quindi può essere un buon deal, un buon rapporto, quello di spendere una carta risorsa da 2 o 3 per fare quei 2 o 3 danni. Però diciamo, ok, Kate Bishop funziona, funziona perché ha delle statistiche buone, ha un'abilità simpatica che la rende comunque una valida aggiunta, perlomeno al momento in cui è uscita, poi ripeto, secondo me Kate Bishop dice la sua anche andando un po' più in là, ma soprattutto quando ci sono quei villain, penso a Ronan, ma penso anche ad altri, a Thanos, che martellano un sacco, e dove la strategia è quella di riempire il board di alleati piccolini, per prendersi attacchi magari a 6-8, e intanto costruire il proprio board con gli upgrade, le aggiunte e così via. In questo senso Kate Bishop è perfetta, perché pagate 2, fa 2 danni che magari toglie proprio il robusto, o fa 2 danni a un minion, e si prende l'attacco in faccia. Quindi, carta che secondo me non è invecchiata male, che poi ha dato il via a una serie di alleati, con questo rapporto cost-benefici-abilità, che la rendono assolutamente interessante e giocabile. Carta che, se vogliamo, è invecchiata un pochino peggio, è Black Knight. Perché Black Knight? Perché Black Knight è un alleato dal costo 3, intervento 1, attacco 2, è un Avenger, 3 punti ferite, e quindi siamo nel range di Tigra, che è sempre un po' il nostro benchmark da parte di Corset, l'attacco base di Black Knight guadagna perforante. Ora, è chiaro che, con i Villain dove c'è il perforante, Black Knight è assolutamente quasi un Mastevo, comunque è una carta da prendere assolutamente in considerazione. Pagate 3, vi assicurate 2 attacchi da 2, e un blocco. Assolutamente in linea. Perché dico che non è invecchiata granché bene? Perché, anzitutto, potrebbe esserci dei Villain dove non mettono mai perforante, degli scenari dove non serve il perforante, e quindi la sua abilità non funziona granché. Io ricordo distintamente che questa carta l'ho usata tantissimo ai tempi del Teschio Rosso, sia perché lo stesso Teschio Rosso, se non sbaglio, ha delle carte che lo rendono robusto, sia per Zola, che ha quelle che robustiscono i Minion, e così via. Quindi ha una sua utilità all'interno della box nel quale entra, sia perché erano tempi in cui qualsiasi alleato di fatto valeva la pena, nel senso che il rapporto costo-abilità valeva la pena. Poi credo che questa carta sia un po' invecchiata male, perché esistono altri modi anche per togliere il perforante, esistono altri modi per splashare dei danni, e andare a pagare 3 un alleato che magari attacca due volte a due, e poi prende un blocco, non è malvagio perché rientra nel range di Tigra, però credo che poi col tempo si sia un po' anacquato. Per cui queste sia Okai che Black Knight, sono carte che al momento dell'uscita, a mio avviso, erano molto utili, molto interessanti, hanno un po' perso, forse Black Knight ha perso ancora un po' di più, però rimane di fatto comunque una carta Avenger, che beneficia di tutti quello che sappiamo degli Avengers, degli Avengers uniti e così via, che quindi in una build Leadership Avenger, con un villain spesso e volentieri robusto, trova sicuramente un suo spazio, quindi non la boccio totalmente, anzi è una carta che ho usato parecchissimo, tra l'altro tantissimo, ho smesso un po' di usarla, perché la sua abilità la trovo un po' situazionale, e le sue statistiche sono in linea, ma non sono quelle che dicono, vabbè, se anche l'abilità non è granché, almeno le sue statistiche sono ottime, quindi teniamola in considerazione, consci del fatto che probabilmente non è invecchiata benissimo all'interno del meta. Spostiamoci verso Goliath, credo che sia Goliath, Bill Foster, un alleato dal costo 4, quindi un alleato importante, perché vi svuota la mano, ha un intervento 2, un attacco 1 con 2 danni conseguenti, mentre invece l'intervento ha un unico danno conseguente, azioni, Goliath prende più 4 attacco fino alla fine della fase, alla fine della fase scarta Goliath. Allora, vediamo in sé le statistiche, ovviamente, insomma, non sono granché per pagare 4, per avere un alleato che ha 4 punti ferita, interviene 2, attacca 1, insomma, non è che sia proprio sto granché, tra l'altro l'un attacco gli dà 2 danni conseguenti, per cui, come dire, non è che proprio gridiamo al miracolo, però ovviamente andiamo a vedere la sua azione, e la sua azione, dice, Goliath prende più 4 attacco fino alla fine della fase, alla fine della fase scarta Goliath, quindi proviamo a usarlo alla sua massima potenza, no? Alla sua massima potenza vuol dire che entra, interviene 2, poi magari interviene altri 2 il turno dopo, poi usiamo l'abilità, gli diamo più 4 attacco, e poi lo scartiamo, perché comunque prendiamo i danni conseguenti, per cui di fatto abbiamo pagato 4, per intervenire 4 e attaccare 5. Nell'arco di 3 turni, probabilmente non è così male, è chiaro che se io pagassi 4 per, nel turno in cui entra, rimuovo 4 e faccio 5 danni, beh, sarebbe molto forte, qui lo stiamo splashando su almeno 3 turni, però può avere il suo senso, cioè può essere quell'alleato che usate, tra l'altro in realtà, ho detto un'imprecisione, potrei anche usarlo per 3 turni di intervento, quindi io in 4 turni potrei andare a intervenire 6, e attaccare 5, beh, insomma, diciamo a livello netto di quello che fa, è assolutamente forte, ovviamente io sto facendo un investimento, dato anche dal suo costo, perché mi svuoto la mano, di cui vedrò il beneficio tra 3-4 turni, no? Perché pago oggi 4 per intervenire 2, se gioco Maria Hill, pago 2, intervengo 2, pesco pure una carta, no? Quindi, come dire, qui si innesca quel discorso del quanto vale una carta, non solo in relazione alle statistiche e al costo, ma nel quanto ci mette a fare quello per cui la gioco, no? Per quello che spesso e volentieri una carta alla Kate Bishop è molto più immediata, entra, attacca, para, punto, ho pagato 2, ho fatto quello in un turno e la partita va avanti. Goliath lo gioco oggi, intervengo 2, caspita, se avessi Maria Hill potrei giocare Maria Hill, intervenire 2, pescare pure una carta, e per quel turno ho pagato meno della metà, e ho fatto la stessa cosa. Ovviamente Goliath acquisisce importanza se la vostra idea è quella di metterlo giù, magari intervenire, e poi attaccare come ultima spinta finale. Goliath diventa anche interessante con alcune carte che usciranno poi, in particolare penso allo Sneak Attack. Questa è una carta che uscirà ben più in là, lo Sneak Attack è un evento costo 1, che dice, azione, scegli un alleato nella tua mano, che condivide un tratto con la tua identità, metti quell'alleato in gioco, se quell'alleato è in gioco alla fine della fase, scartalo. Beh, allora se Goliath pagate 1 per con lo Sneak Attack, mettete in gioco Goliath, e quindi avete pagato una carta, lo Sneak Attack e Goliath, per 5 danni, beh, sì, forse non è eccezionalissimo da un certo punto di vista, però tutto sommato è un primo approccio del dire non lo pago interamente, ma lo metto in gioco sfruttando il fatto che è un Avengers, gli faccio fare 5 danni subito e poi alla fine lo vado a scartare. L'altra cosa che diventa interessante è se insieme allo Sneak Attack riusciamo a giocarci il Go Down Swinging, che è un evento a costo 0 tattica, scarta un alleato che controlli, fa i danni a un nemico uguali a il Printed Cost di quell'alleato. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi paghiamo lo Sneak Attack più una carta, mettiamo dentro Goliath, lo facciamo attaccare a 5 e poi col Go Down Swinging attacca a 9. Ora, una combo di 1, Sneak Attack 2, terza carta per giocarla e 4 di Goliath per fare 9 danni, non è malvagio, perché vuol dire che pago 4 per fare 9 danni, cioè o meglio, pago 3, per una carta per fare 9 danni, non è malvagio, 3 per 3, 9, vuol dire che il rapporto tra il costo 3 e i danni 9 è 3 volte, che è molto buono e molto alto, no? Quindi, è chiaro che questa è una combo che diventa, se vogliamo, un po' più difficile da costruire, perché si basa su varie carte, però può essere una pulce nell'orecchio per quando usciranno altri pack, come War Machine nel caso di Go Down Swinging, e anche dello Sneak Attack, per ottimizzare l'uso di Goliath. Un'altra cosa che funziona molto bene con Goliath è il Command Team, perché? Perché il Command Team è un supporto che costa 2 ed esce questo, tra l'altro anche lui nel pack di War Machine, azione, esaurisci Command Team e rimuovi un Common Counter da esso, stappo un alleato. Ora, Goliath entra, attacca 5, Command Team lo stappiamo, riattacca 5, quindi, magari vado a giocare 4, ok? vado a giocare 4, però faccio 10 danni, diventa interessante. Tra l'altro, in questo pack c'è anche la moto, la Sky Cycle, tra poco la vediamo, che, se abbinata, in questo senso, a Goliath, può funzionare ed essere interessante, perché magari interviene 2, attacca 5, poi, col Command Team mi riattacca 5. Adesso ci arriviamo. Quindi, per concluderci, è un alleato che, se messo, se pagato oggi, è un investimento per il futuro e ha statistiche solide, sebbene per quel turno si riuscita, ha statistiche solide, viste così, cioè intervengo 3, attacco poi a 5. Questo ha assolutamente senso per 4, anche se ovviamente si sviluppa in 4 turni, no? Quindi questo può essere uno svantaggio da un punto di vista di momentum di gioco, però, ha un suo senso. Se si riesce, in qualche modo, a sfruttare le sue statistiche bypassando il suo costo o attivandolo due volte, beh, allora, il suo valore aumenta notevolmente. Quindi, teniamolo presente man mano che andremo a vedere carte che sfruttano questo action advantage degli alleati o scontano di costo, che col IAT può avere il suo senso. carta che invece non è invecchiata benissimo e che anche allora la usai poco, anche se ha un suo spazio di utilizzo, è US Agent John Walker, alleato dal costo 3, 1-1, quindi sotto media, un danno conseguente, 5 di vita, il che è molto alto per un alleato, re tagliate 1. Quindi, dopo che questo personaggio è attaccato, fai un danno al personaggio attaccante. ora, occasionalmente questa carta potrebbe fruttarvi due parate dal Villain. Magari il Villain attacca due, tirate fuori un 2, questo para, sopravvive, gli fa un rate, gli hate, e poi si prenderà un attacco successivamente. Però, diciamo che il suo vero utilizzo è forse quello di poter gestire i minion, cioè quei minion che magari hanno 2, 3, 4 punti vita e attaccano solo a uno, non sprecate il tempo per averci a che fare, ma magari ci piazzate a US Agent e ogni turno lo utilizzate la sua abilità di retaglia per fare un danno al minion, un danno al minion, è un continuo, ti tiro un pugno, mi tiro un pugno, ti tiro un pugno, mi tiro un pugno, se la vita di US Agent è più alta della vita del minion l'attacco è generalmente uno, perché già se fosse due quello del minion potrebbe essere un po' più difficile, può in qualche modo ripagarsi, altrimenti anche qui dal costo 3, cioè se è invecchiato male Black Knight forse US Agent è invecchiato ancora peggio, perché pagare 3 per intervenire 1 attaccare 1 insomma, boh, non lo so, non sono molto convinto, se anche non usate la sua abilità rete voi pagate 3 per fare magari 4 di intervento e un blocco non è male, ma è su 5 turni, quindi anche qui vale tutto il discorso dell'ok, non guardiamo sempre solo le statistiche, ma guardiamo anche quando riesco a utilizzare le statistiche e in questo caso di US Agent non riesco a ottimizzarle subito, perché non ha come dire, non ha un intervento o un attacco 2 che in qualche modo massimizza la sua entrata in gioco nei primi turni, ma avendone 1 US Agent va usato generalmente per parare e per parare direi i Minion non tanto il Villain a meno insomma di Villain particolarmente deboli di attacco Zola per esempio piuttosto che Minion che hanno degli attachment che gli riducono la difesa e l'attacco anche se arriveranno più là insomma non lo so US Agent che a mio avviso non è neanche un personaggio troppo simpatico se devo dire così una nota di lore non lo so lo vedo un po' non invecchiato benissimo ecco nel tempo però ai tempi poteva essere sicuramente valido in quanto non c'era questa grande scelta di alleati come si è sviluppata poi man mano spostandoci a un upgrade è lo Sky Cycle è un veicolo che può essere aggregato deve essere aggregato un alleato Avenger massimo 1 per alleato le attacce dalla e quindi l'alleato con questa giunta guadagna il tratto aereo azione esaurisce lo Sky Cycle stappa l'alleato con questa giunta ora se vi ricordate quando abbiamo parlato di Cup America forse insomma in uno dei precedenti analisi che abbiamo fatto tutto con l'escursus su il tratto aereo questa carta ovviamente dà a un alleato Avenger il tratto aereo sì come dire deve essere Avenger e gli dà il tratto aereo quindi va un po' costruita questa cosa però il grosso vantaggio è questo poter stappare l'alleato se ritorniamo al nostro amico Goliath beh capite bene che se Goliath annesca la sua abilità attacca 4 poi con lo Sky Cycle esauriamo lo Sky Cycle stappiamo l'alleato lo facciamo attaccare magari ancora 5 per cui in qualche modo ho capitalizzato l'utilizzo di Goliath se poi addirittura Goliath ha intervenuto 2 il turno prima attacca 5 lo stappo riattacca 5 riesco a pagare magari un alleato che mi è costato 4 per 2 intervento e 10 danni non è malvagio ovviamente devo sacrificarci lo Sky Cycle cioè sacrificarci nel senso che se lo gioco su Goliath lo gioco lo stappo e poi verrà scartato inevitabilmente dove invece funziona bene questa tipologia di carta è con quegli alleati ho preso per esempio Wong o Annabelle Riggs che sono alleati che hanno un'azione esaurisci Wong fai questo scegli di curare un danno dalla tua identità o scartare la top carta nel mazzo invocazioni oppure Annabelle Riggs dice esaurisce Annabelle Riggs cerca le top 5 carte del tuo mazzo per una carta Valkyria e tutto ovviamente qual è lo svantaggio che devono avere il tratto Avenger e normalmente non ce l'hanno perché Annabelle Riggs è un civile Wong è un mistico fortunatamente esiste il nostro onorario Avenger che avevamo visto nel pack di Captain America giocala solo se la tua identità ha il tratto Avenger attaccala un personaggio amico il personaggio con questa aggiunta ottiene più unit point e guadagna il tratto Avenger quindi se non riusciamo per esempio con Wong o Annabelle Riggs a dare loro il tratto Avenger e con la Sky Cycle andare a stapparlo costantemente beh diventa interessante perché andiamo a creare un circolo virtuoso per cui Wong Annabelle Riggs e via via tutte quelle carte che escono e che hanno questa abilità di esaurirsi e fare cose possono farlo due volte in un turno quindi la Sky Cycle era una carta che non era facilissima da ottimizzare quando era uscita anche se aveva dei target come per esempio l'Iron Man Alleato che costava zero e poteva attaccare due volte o intervenire due volte ma che poi nel tempo ha aperto a una serie di combo sicuramente più interessanti mirate a mio avviso o al tratto aereo che aveva un suo senso oppure a quegli alleati che hanno una loro forza nel momento in cui tappo e faccio cose tappo e faccio cose tappo e faccio cose ce ne sono diversi quindi per assurdo la stessa Kate Bishop può funzionare come target per la moto perché se un rischio è stato alleato scarto una carta faccio un danno poi con la moto la stappo scarto un'altra carta faccio un danno poi pensiamo all'ottimizzazione di questa cosa che magari non è così alta nel caso di Kate Bishop però in generale con quegli alleati come Wong Annabelle Riggs o in generale tutti quegli alleati che non sono Avengers ma i quali do il tratto onorario Avengers beh capiamo bene che può avere la sua utilità carta che invece è invecchiata benissimo ed è comunque uno staple dei Voltron e anche Hallisworm deck è il team training il team training è un supporto a costo 2 è una condizione giocala sotto il controllo di qualsiasi giocatore massimo 1 per giocatore ogni alleato che controlla prende più un punto questa carta non è che ha molto da dire è una carta che se giocate tanti alleati il cui scopo generalmente è quello o di stare in gioco un più possibile o di fare cose prendersi attacchi ma cioè faccio un esempio se questa carta è forte punto però in carte e in build dove si sfrutta il segnale di adunata e Maria Hill che cosa vuol dire Maria Hill entra interviene 2 si prende l'attacco il turno dopo la rievocate con il segnale di adunata e di conseguenza pesca di nuovo una carta cioè il concetto è questa carta è molto forte perché dà i punti vita agli alleati per fare quella cosa che devono fare un turno in più e questo è fortissimo in generale per un costo 2 se voi giocherete 6, 8, 10 alleati nel corso della partita e darete un punto ferita in più a questi alleati beh vuol dire che ogni alleato che attacco 2 farà 2 danni in più ogni alleato che ha intervento 2 toglierà 2 trame in più e così via quindi è una carta universalmente forte è meno forte quando invece la vostra idea concettualmente è quella di sfruttare il più possibile gli alleati che entrano fanno cose ed escono perché è meno forte perché la nostra mockingbird che mimo che è forte perché ogni volta che entra stordisce il villain se acquisisce un punto in più per assurdo potrebbe sopravvivere un turno in più e quindi di conseguenza essere un po' controintuitiva questa cosa però in linea generale al di là di questa piccola particolarità il team training era ed è tuttora una carta assolutamente fortissima anche perché nel tempo si sono espansi i tratti quindi non abbiamo più solo gli avengers ma abbiamo gli x-men abbiamo i champion abbiamo gli x-force e così via e quindi questa carta tra l'altro non ha una limitazione su questo poi usciranno le carte con le limitazioni i guardiani i mighty avengers gli uncanny x-men e così via ma questa carta qui funziona indipendentemente dal pool di alleati che avete quindi è probabilmente tra tutte queste carte la carta migliore se vogliamo dire perlomeno di quella che abbiamo visto finora perché è oggettivamente fortissima cioè pago due una carta per dare ai miei alleati maggior longevità fargli fare più cose e questo in linea generale aiuta tantissimo la sopravvivenza dell'eroe e come dire se gli alleati possono fare in più cose stanno di più sul borde vi permette di tamponare meglio alcune cose mentre magari il vostro eroe ne approfitta per buildarsi c'è un alleato che interviene due che può intervenire un'altra volta due prima di prendersi sette danni in faccia ha assolutamente una sua forza e un suo valore per cui il team training è un'ottima carta altra carta che a me non dispiace in generale che giocai molto ai tempi e poi ho iniziato a giocare meno è ready for action è un evento costo 1 azione eroe dai a un alleato che controlli una carta status robusta pago 1 per parare un attacco punto va vista così e può essere confrontata con una carta che uscirà tra un po' che è stinger stinger è un alleato dal costo 1 gioca solo se la tua identità ha il tratto avenger stinger non conta come alleato sul tuo limite di alleati perché la paragono perché di fatto stinger voi entra in gioco lo pagate 1 interviene 1 prende l'attacco punto e questo ready for action non è molto diverso cioè di un alleato che avete lì potete renderlo robusto e farsi prendere l'attacco poi ci sono come dire ci sono aspetti più creativi cioè avete un alleato che magari per quel turno attacca 2 o attacca 3 lo stesso goliath volete che questo alleato attacchi e poi si prenda un attacco dal villain faccio un esempio anzi prendiamo il prossimo war machine così lo vediamo lo vediamo qui che tanto è un esempio è un esempio chiaro no questo war machine qua avete necessità che war machine faccia questo intervento 2 ma anche che blocchi siete già a 2 punti ferita e quindi se intervenite allora war machine muore beh potreste per esempio renderlo robusto intervenire 2 prendete il danno ma siccome si è robusti non muore e poi si prenderà l'attacco in faccia del villain è ovviamente un approccio un po' creativo ma può ma può funzionare altrimenti questa carta è molto utile e può avere il suo senso contro criminali con sopraffazione ma senza perforante perché perché se avete un criminale che attacca 7 con sopraffazione questa carta vi blocca tutti i danni se invece il villain dovesse avere perforante sopraffazione allora questo sarebbe un problema quindi nel confronto diciamo ready for action sting stinger scusate hanno funzioni simili perché poi stinger in realtà vi dà anche un colpettino l'attacco l'intervento e così via però possono essere usate indifferentemente a seconda di quello che avete contro cioè se ci sono se c'è sopraffazione in giro sting ovviamente rischiate che vi si vi parla l'attacco ma vi beccate 5 danni di travolgere nel concetto magic di travolgere per chi le conosce che è la sopraffazione con il ready for action questo non succede diciamo una carta buona non da urlare al miracolo sicuramente non un team training ma una carta buona che può funzionare per pago uno paro un attacco punto oppure in maniera più creativa se ci sono appunto alleati che riescono a fare ad avere una statistica molto alta due tre quattro e così via e dovrebbero morire con la loro azione con ready for action io posso pagare uno per fargli fare quella cosa rendendolo robusto insomma un po' non convenzionale ma può avere il suo senso lead from the front è una carta che se non sbaglio abbiamo già visto di cui abbiamo già parlato e così via lo stesso discorso anche per il the power of leadership le altre due carte che rimangono diciamo del pack ok sono war machine e gli eroi più potenti della terra war machine è un alleato grosso perché pagate quattro ha due sulle statistiche ha ranged che è utile soprattutto penso contro zolo contro quei villain che hanno re-etaliate ed è robusto quindi voi pagate quattro entra in gioco vi prendete un attacco e poi avete quattro turni in cui fargli fare interventi attacchi e poi prendersi un attacco diciamo che nel tempo war machine nel tempo diciamo al tempo dell'uscita war machine poteva essere una valida alternativa a mimo perché perché mimo voi pagavate tre di fatto toglievate due attivazioni del nemico e facevate un attacco due o un intervento due o un misto con il nostro amico war machine voi fate di fatto la stessa cosa cioè pagate quattro togliete due attivazioni del nemico perché è robusto e equivale allo stordito non è la stessa cosa perché c'è l'effetto boost e tutto ma concettualmente in condizioni normali un alleato robusto che pare è come se il villain fosse stordito poi è vero che c'è la carta boost che può far casino però diciamo sicuramente lo stordito è meglio però se il villain è stabile non potete stordirlo mentre invece potete potete pararlo con un robusto però per continuare il ragionamento mockingbird e war machine diciamo che war machine essendo tra l'altro anche un avenger quindi beneficio di tutte quelle carte che aiutano gli avenger che riducono i costi la torre degli avengers e così via diciamo che diventa non un nuovo staple che sostituisce mimo ma si affianca e spesso e volentieri può anche come dire in qualche modo eclissarla perché pagando solo un in più io riesco a fare due blocchi ma ad attaccare e intervenire il doppio e tra l'altro con questo ranged che potrebbe essere utile quindi come dire sono carte che si equivalgono nella funzione war machine costa uno in più ma fa un attacco o un intervento da due in più quindi raddoppia l'intervento o l'attacco di mockingbird e in più è un avenger per cui anche se controintuitivamente Mimo rimane a mio avviso una staple classica war machine in realtà per le statistiche che ha in un mazzo che spinge sugli avengers potrebbe anche essere buono e migliore di mockingbird e di mimo l'altra carta prima di spostarci al pack di spider woman è una carta molto forte gli eroi più potenti della terra un evento a costo zero azione esaurisce un avenger character che controlli stappa un altro avenger character che controlli qui la chiave è esaurire un alleatino debole per stappare l'eroe forte molto semplice hulk che ha attacco 3 più l'aggiunta del supporto che gli da attacco 4 ovviamente se voi andate a tappare stinger sto facendo un esempio o un qualsiasi alleato avengers della sfera rossa insomma poi qui si può giocare a ottimizzare però il concetto è se io riesco a tappare qualcosa che è debole per stappare qualcosa che è forte beh trasformo questa carta magari in una carta a costo zero che fa tre danni tre intervento quattro danni e così via un esempio per esempio è wonder man no wonder man è quell'aleato che abbiamo discusso quando parlavamo del pack di capitano america che dicevamo se ho carte scartare cartella scartare wonder man ha un ottimo rapporto perché fa tre attacchi se no posso usarlo per essere tappato per vari motivi per esempio quella carta che tappi gli alleati e peschi carte e ultimamente direi anche gli eroi più potenti della terra questa è una carta che apre a tutta una serie di considerazioni però il concetto vero è spingere sull'action advantage di un eroe o di un personaggio che per quel turno per qualche motivo particolare fa particolarmente male o interviene particolarmente bene fa particolarmente male intendo fa particolarmente danni o interviene particolarmente bene che tappare invece un piccolo alleatino un blocker o uno stinger o un qualsiasi altro avenger vi permette di sfruttarla questa è una carta che io ho usato tanto non con tutti gli eroi ma con quelli che hanno una statistica con gli avenger che hanno una statistica spiccata su una delle tre principalmente l'attacco direi cioè questo è molto utile quando Hulk attacca a tre a quattro a cinque perché è potenziato tappate stinger e bam stappate Hulk e poi Hulk magari aveva già attaccato a tre a quattro riattacca a tre a quattro e con una carta riuscite a fare parecchie cose da un punto di vista di costo benefici quindi questa è un'altra carta forse tra tutte quelle che sono uscite in questa box che all'interno delle build è ovviamente avenger perché sennò perde il senso totale e soprattutto il fatto che è grigia aiuta tantissimo perché non è vincolata all'azzurro che è generalmente il colore in cui gli alleati sono di più anzitutto e sono più bustati ma questa carta ha assolutamente il suo senso anche perché come dire se l'alleatino scarso voi potete pensate a Stinger Stinger ma prendo Stinger per dire uno Stinger magari è intervenuto avete pescato prima che si attivi il Villain gli eroi più potenti della terra decidete di non dare Stinger in pasto al Villain ma di tenervelo perché? perché il turno dopo magari tappate Stinger con gli eroi più potenti della terra stappate Hulk riattaccate con Hulk e Stinger vi serve a bloccare il turno successivo quindi come dire il grosso vantaggio che poi anche la peculiarità di Marvel è che prima che si attivi il Villain voi avete pescato le nuove carte e quindi pescare questa carta qua vi dà la possibilità di fare delle scelte per ottimizzare e di conseguenza siccome poi è un gioco di ottimizzazione poter giocare una carta dal costo zero per fare al netto magari un intervento 3 un attacco 3 o anche un attacco 4 e così via ha assolutamente il suo senso per quanto riguarda invece le carte diciamo che appattengono a Spider-Woman ne abbiamo un po' meno per due motivi prima perché c'è una serie di doppioni che vabbè prendiamo atto sia perché Spider-Woman ha un po' questa costruzione del mazzo un po' particolare dove ha già normalmente delle carte diciamo aspetto all'interno delle sue carte eroe quindi se arriveremo a parlare di Spider-Woman come eroe fatemelo sapere nei commenti se è un eroe che vi piace vi interessa faremo un po' di queste considerazioni noi ci stiamo concentrando solo giustamente sulle carte aspetto quindi andiamo a vedere quelle poche carte aspetto che arrivano con Spider-Woman e che vanno un po' a compilare a completare se vogliamo questa analisi la prima carta aspetto aggressione che arriva è Spider-Girl alleato costo 2 intervento 1 attacco 2 un danno conseguente Avenger 2 punti vita risposta dopo che giochi Spider-Girl dalla tua mano stanna e confondi un minion ora Spider-Girl un po' come la nostra amica che abbiamo visto poco fa Kate Bishop ha quelle sue statistiche che la rendono soprattutto in aggressione dove l'obiettivo è fare danni un alleato buono solido pago 2 faccio 2 danni prendo un attacco molto semplice molto funzionale la sua abilità diciamo che allora normalmente anche a seconda dello stadio della partita in cui si è i minion si vogliono togliere è molto raro che se pesco un minion al turno 1 riesco in qualche modo a tenermelo ingaggiato per tutta la partita però se invece pesco un minion verso metà partita e come dire magari un minion anche ostico da buttar giù perché ha retagliate perché ha una serie di motivi per cui magari è faticoso buttar giù il fatto che spider girl entri lo stanna e lo confonde e poi magari proprio il momento in cui voi state in eroe e poi andate in alter ego beh di fatto rimandate il problema di un minion di 2 o 3 turni il che vuol dire che sostanzialmente se siete già magari al quinto o sesto turno rimandando il problema di 2 o 3 turni potrebbe anche essere che quel minion non lo gestiate più per tutta la partita vi ricordate quando abbiamo parlato del blip del momento in cui da quel momento in poi la partita va in una direzione o nell'altra se spider girl è giocata in prossimità di quel momento in prossimità del blip beh allora il fatto che vi stanna e vi confonde un minion ha una sua indubbia utilità non dovete farlo fuori non vi fa i danni non vi mette minaccia e di conseguenza può funzionare può funzionare anche contro quei minion che sono particolarmente forti in termini di statistiche per cui togliersi un attacco a 3 può essere utile un attacco di un minion a 3 diciamo che non ci sono in questa fase del gioco sono molto pochi ma più si andrà avanti più anche la forza dei minion diventa importante quindi spider girl in questo senso è un alleato solido io mi trovo a usarlo anche oggi in molte bleed di aggressioni perché il fatto che entra fa due danni e poi prende un attacco e occasionalmente riesci a scombare bene con un minion magari fastidioso in qualche modo confondendolo stordendolo sfruttando quelle sinergie di carte che sono più forti quando un nemico è confuso è stordito e tra l'altro tra poco ne vediamo un'altra beh può avere assolutamente il suo senso quindi è una carta che è invecchiata piuttosto bene per quanto mi riguarda che mi ritrovo a usare anche abbastanza spesso il combat training l'abbiamo già parlato lungamente il tac team ne abbiamo già parlato lungamente parliamo invece del press di advantage un evento a costo 1 attacco azione eroe attacco fai 2 danni un nemico se quel nemico è stannato o confuso pesca una carta diciamo che questa è la gemella di clear di area che vedremo tra poco però clear di clear di area ha il grosso vantaggio di avere un rapporto costo rimozione di trame di 1 a 2 che è lo stesso rapporto di costo di danni di press di advantage ma sappiamo bene per tutti i discorsi che abbiamo fatto chi sta seguendo la rubrica e così via che non c'è linearity non c'è non possiamo confrontare normalmente pagando 1 non ci aspettiamo 2 o 3 danni non 2 perché è più difficile nel gioco nell'economia di gioco rimuovere minacce con un certo costo di quanto non sia fare danni con lo stesso costo quindi il press di advantage è una carta che ha senso quando ragionevolmente confondo o stordisco un nemico in questo senso spider woman può funzionare perché magari entra in gioco fa il suo cioè fai 2 danni poi si beccherà l'attacco del villain avete confuso o stordito un nemico un gregario lo fate fuori e pescate una carta quindi il press di advantage in qualche modo si ripaga non è una carta per la quale urlo al miracolo se devo dire la verità però può essere che a volte soprattutto penso a miles morales a una serie di diciamo eroi che facilmente confondono o stordiscono o che hanno beneficio a giocare tanti piccoli eventi di attacco di intervento nello stesso turno penso a gamora queste sono carte che possono funzionare perché se hanno diciamo dei vantaggi a giocare tante carte gamora per esempio quando gioca un evento attacco rimuove minaccia quando gioca un evento minaccia rimuove trame minaccia rimuove danni e così via il press di advantage vi permette di giocare un attacco magari due non particolarmente ottimizzato ottimizzato però se è stannato confuso pescate una carta e quindi si ripaga e soprattutto il vantaggio che magari triggera le abilità dei vostri eroi penso a gamora penso agli altri eroi che hanno in generale vantaggio oppure a quelli che quando giochi in un evento attacco aumenti di un danno e quindi diventerebbe uno per tre e così via questa è una carta che poi in qualche modo viene un po' ecclissata dal clobber che è quell'evento dal costo due che fa tre danni che se è la prima carta che giochi la riprendi in mano ci arriveremo diciamo che in qualche modo quella carta lì forse diventa un uno per tre rispetto a un uno per due con pescare una carta più situazionale quindi carta da tenere presente per certe build non universalmente per tutte le build aggressione perché a mio avviso c'è c'è di meglio stesso discorso che c'è abbastanza di meglio è il piercing strike il piercing strike è un evento costo due attacco azione eroe attacco fai tre danni un nemico questo attacco guadagna perforante ora è chiaro che se avete un nemico che molto spesso diventa robusto questa carta ha assolutamente il suo senso altrimenti rimane spesso volentieri nel sideboard è un po' diciamo un aimaker un pochino più forte ci ricordiamo che l'aimaker paghi due per fare tre danni questo potenzialmente gliene fai anche molti di più perché se tu c'è molti di più nel senso che se tu non hai modo di fare un ping ma puoi solo attaccare con ulca 4 e dovresti sprecare un 4 per togliere un robusto questa carta vale di più dei tre danni ovviamente perché togliendo il robusto poi vi sbloccate la possibilità di attaccare con ulca 4 però ecco boh non lo so credo che più andiamo avanti nel pool di carte e più modalità per fare quel dannino per togliere il robusto piercing e così via ci sono e piercing strike devo dire che a differenza di altre carte come tra poco clear di area che è uno staple dei mazzi giustizia l'ho usata l'ho usata poco ecco il vantaggio è che col power of aggression con una carta la giochiamo e quindi perché il power of aggression raddoppia le risorse generate per una carta di aggressione però boh se devo dire la verità insomma non urlo al miracolo per questa carta e nel tempo credo che la sua utilità sia anche diminuita in maniera abbastanza importante quindi non una carta eccezionale ecco che che ci viene incontro in questo in questo pack un'altra carta a mio avviso non particolarmente eccezionale è spider man peter parker è un alleato dal costo 5 2 2 4 punti vita avenge risposta dopo che giochi spider man nella tua mano rimuovi tre minacce da ogni giocatore cioè scusate tre minacce per giocatore da una side scheme allora questa non è una brutta carta in assoluto ma il costo 5 è altissimo vuol dire che normalmente se sarete in eroe non riuscirete a giocarla e una carta che giocata in alter ego vi svuota completamente la mano è una carta pesante certo ha il grosso vantaggio che soprattutto quando arriveranno varie side scheme anche importanti se giocate spider man e ci sono 4 giocatori magari una minaccia secondaria che è entrata una trama secondaria che è entrata e che ha su 12 segnalini minaccia beh questo entra li toglie tutti e 12 quindi quando questa combo entra è davvero notevole al di fuori di questo il costo è davvero molto alto e molto proibitivo questo rientra in tutto quel discorso che facevamo prima anche perché magari spidey il buon peter parker che verrà ecclissato dal peter parker spider man che uscirà nella wave del ragno verso quindi quello come dire che ha i requirements di avere le tre risorse ma che quando attacca interviene mi sembra va a stappare uno spider warrior quello là lo ecclisserà anche perché ha le stesse statistiche forse uno in meno di vita ma costa due meno ed è grigio quindi insomma come dire difficile io non ho mai trovato grande spazio in questo spider man sebbene le potenzialità ci sono perché il fatto di poter entrare rimuovere 12 minacce da una trama è assolutamente importante ecco diciamo che dire 12 uno dice wow è tantissimo però 12 sono anche perché siete in 4 giocatori e quindi in realtà ogni giocatore magari ha modo di rimuoverne 3 e magari ci sono carte che più efficientemente ne rimuovono 6 8 10 e come dire scombano bene anche con carte di altri giocatori quindi al di là del fatto che questa cosa può dare un suo così soddisfazione notevole di dire gioco Peter Parker tolgo 12 minacce da questa trama e questo diventa sicuramente più importante con l'uscita delle trame secondarie del giocatore e questo è indubbiamente interessante nella wave degli X-Force perché quelle trame secondarie del giocatore che magari vi danno accesso a potenziamenti alleati cure stati srobusti e così e il fatto che Spider-Man entra e la blanca completamente dà luogo a delle combo molto buone molto interessanti non l'ho mai provata se devo dire la verità non l'ho mai l'ho solo teorizzata questo concetto di giocare Spider-Man con le trame secondarie giocatore magari mi riservo di riprovare le multiplayer perché in questo senso effettivamente può avere un suo spazio sebbene il costo sia davvero proibitiva cioè se siete in eroe e poco andate in alter ego questa carta non la giocherete quasi mai perché sì dovrete pescare la carta risorsa che vi aiuta a giocarla ma insomma difficile giocare una carta da costo 5 torniamo sul tema di Heimdall e di tutto difficile veramente se non si è in alter ego e non si è sempre in alter ego e quindi la tempistica con cui pescate questa carta è bassa però vabbè beneficio del tratto Avenger ha un effetto di entrata in gioco che può essere fortissimo con le trame secondarie carta che rimandiamo a settembre solo perché con l'X-Force ci aiutano le trame secondarie altrimenti io personalmente non l'ho mai vista giocata tantissimo per quanto riguarda l'intuizione eroica niente da dire Skill ed Investigator invece è una carta molto buona invievabile investigatore giocala sotto il controllo di qualsiasi giocatore ma se uno per giocatore risposta eroe dopo che una side scheme è sconfitta esaurisci Skill ed Investigator pesca una carta allora questo ha due vantaggi il primo che costa zero è quando avete rimosso una trama secondaria si ripaga perché ripescate una carta e questo è utilissimo a partire dalla seconda che andate a rimuovere questa carta vi dà benzina al vostro motore di pesca e nella wave degli X-Force che andrete a giocare delle trame secondarie giocatore questa carta è ancora più utile per cui se avete trame secondarie giocatore io questa carta la metterei sempre e la metterei anche in più copie in più giocatori perché potete giocarla sotto il controllo di qualsiasi giocatore e questo è il primo vantaggio grosso il secondo vantaggio grosso è che in linea generale avere un upgrade che costa zero sul tavolo è sempre molto utile perché perché esistono carte nel mazzo incontri anche nel set standard per esempio che vi fanno scartare degli upgrade e questo è un grosso vantaggio perché piuttosto che scartare la spada di Gamora la God Slayer o lo scudo di Cap o attachment upgrade fondamentali per il vostro mazzo dovete scartare lo skill ed investigator fa niente quindi questa è una carta che come dire secondo me nei mazzi giustizia ci sta sempre bene ci sta ancora meglio se ci sono trame secondarie di giocatore e ancora meglio se ci sono tante trame secondarie per esempio in teschio rosso questa è clamorosa questa carta avuta in mano uno perché di fatto per come va giocato teschio rosso dove dovrete sempre ruovere minacce dalle trame secondarie questa carta sostanzialmente vi aumenta il limite di mano di uno se vogliamo vederla in questo modo quindi carta assolutamente valida che diciamo rincuora questa parte legata a Jessica Drew Spider Woman che dal punto di vista aggressione non è particolarmente brillante mentre invece dal punto di vista giustizia tra skill ed investigator e non l'interrogation room perché c'è già nel corsetto e ne abbiamo già parlato e clear di area aggiunge delle carte veramente fondamentali qui abbiamo una carta veramente orrenda orrenda perché paghiamo uno per rimuovere due e magari anche pescare una carta cioè una roba inguardabile sono ovviamente eroico eroico ironico anche se eroico ci stava bene perché perché questa carta pagate uno per rimuovere due e a volte spesso soprattutto in basso in bassi player count uno o due giocatori si ripaga da sola cosa vogliamo di più? niente cioè questa carta va anche in sostituzione del famoso for justice carta staple del staple kit for justice del costo due che rimuove tre o quattro se ho pagato con una risorsa genio perché uno per due è ottimo nella rimozione di trama e se questo uno per due diventa addirittura zero per due di cosa stiamo parlando fortissima quindi in solo must have in due giocatori direi anche in due giocatori must have in tre o quattro forse magari non indescherete la sua abilità di rimuovere di pescare una carta però in generale cosa vogliamo di più da una carta quindi come dire io mi sono trovato spesso a fare mazzi se vogliamo ignoranti in cui magari un eroe con dentro i cosiddetti mazzo staple kit for justice quelle che io nelle mie analisi degli eroi chiamo così cioè dove metto dentro una decina di eventi che rimuovono minacce e so che il mio lavoro è fare quello e questa carta in questo senso lo fa enormemente bene quindi è una carta sulla quale non è che dobbiamo delungarci molto fortissima ottimo rapporto statistiche se si ripaga è clamorosamente eccezionale cosa vogliamo di più direi niente bene io direi che abbiamo dedicato un po' di tempo all'analisi di queste carte della box dell'ascesa di teschio rosso spero che questa analisi vi sia piaciuta vi abbia dato spunti se ne avete altri scrivetemi nei commenti che li leggo volentieri li commentiamo insieme continueremo ovviamente la nostra analisi con la wave successiva io vi ringrazio ciao alla prossima